Anfaccio a tutti ragazzi qui Caloo e bentornati in un nuovo video, siamo nel Rank Team Part 3, sempre i soliti quattro. Pischelli. Qui. Ciao. Ciao. Lo top sarà molto noiosa come lei. Lui gli dai un pugno, lui gli dà un pugno. Sì. Lui gli lancia albrelli, lui gli lancia a rotelli. Quando fai il REC così, ci viene anche la schermata del caricamento dei cosi, quindi si vede che io c'è il bordino argento. Qui adesso 15.000 persone sanno che c'è il bordino argento, io ero anche tipo. Sono noobs. Noobs. Io sono Diamond Dentro. Fin troppo dentro. Fin troppo dentro. Ma devi far uscire. Vero, è vero. Io non lo so come ci sono arrivato Diamond. Noobs. Eh, me lo chiedo pure io. Eh, Cina si chiede come fa ancora Stain Diamond. C'è lui è asiatico, regà. Allora, se un asiatico Stain Diamond c'è qualcosa che non va. Cioè. Dovrebbe stare... Un Master Tire Challenger. Già Master Tire, te posso dire. Che si fa? Sono Made in China. Qui si difende, non invadiamo, tanto... È difettoso. Non ci abbiamo... È l'asiatico difettoso. Difendiamo solo. Ma tutti gli asiatici non sono difettosi. Ma se è Made in China? Perché passate tutti e tre pede qua? Appunto, io ho pingato dove bisogna andare. Vai a guardare qua. Regà, non c'è senso che tu rimani qua. Eccoli, eccoli. Oh, si era detto però, eh? Sì, ma se uno passava pede qua prima, come aveva pingato Plain, eh? Neanche c'era da rischio. Ma, ma Kai, come cazzo è iniziato? Scusami un attimo. C'è mal fight. Con un... Uuuuuh. Penserei di arassati a mele. Serpentella, no? Cassia via. Ma la fa... I rights. Vabbè, da solo, ce l'ha fatta. Arrivamo, ok, rights. Rights? Sì, ma ha fatta rights. Rights, motherfucker. Perterrito, rimani lì. No, non mi viene a rompere il cacchio. Lo so, lo so. Pure Cassio. Eh. Oh, un altro volto. Vabbè. Ognuno si è preso... Cioè, lui si è preso un rights piccolino e me ne sono presi due. Stai troppo indietro. Cioè. Sto mangiando. Ma, hanno il due... What? Ma, ma, aspetta, no. Tra un mal due. Ma tra un mal due. Non bagli grafico, what? No, no, non possibile. Vokong, no, in Bram mi aveva rubato l'ex da Vokong. Ah. Eh, figa, zio. Fuck. Vg sorrendere 20. No, semmai Vokong non... Eccolo, Vokong. Volevi? Stamilda. Dovete, vengo mille. Ti posso dare un consiglio, Cina? Non ganka ora. Rimani in giungla. Prendi tanto vantaggio da Vokong che Bram mi ha stellato le cose. Se... Se Plane si trova bene in mid contro Cassio. Che ora. Che tanto, ai primi livelli non dovrebbe essere tanto un problema se te la salitano bene. Giù so. Beh, ho visto che Vokong non aveva ancora il blu. Ma io dopo sto pushando se ti serve una mano, mi lo dici. C'è ancora. Beh, lo sto facendo. C'è il blu. Adiva. Cazzo. Ora non c'è. Però se la ti ricodessi i minion non me li fa perdere. Volevo tipo rimanere qua. Eccolo. Vagli lo put. È qua. Ok, Vokong non flash. Sta avendo. Sta avendo, Vokong non flash. No, non sta qua. Vokong non flash. Ah, ok, ok. Eh, ho visto e poi ho visto quella roba. Vokong non flash. Ciali, ignite, lei. Vokong non flash. Ora, mi fai culo. Non c'è il mito, vai, ci. No, ci sono, vai, 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 vai. Eh, mi uccide però se mi avvicino troppo. Eh, anche a me uccide. Vabbè. Ma che bello ci... Anche di Cina sono le più belle quando fa così. Eh, vabbè. Adesso ho un po' più di vita sta venendo. Vai, 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 vai. Ma che? Non l'ho vista. Non l'ho vista. Non l'ho vista. Anch'io. Vai, caro, kiddo, dai. Ma me l'hai vista anche te che l'acquilibrio me era invisibile. Eh, non l'ho vista. Oh, culo, va. Vokong è stato arrivato a posto di un video. Vabbè. Mi sa che viene top. Eh, sono morto. Ok, bravo. Tira le coin esibili. Aiuto. Ce la faremo. Oh. To the god. Il flash di my fight. Vabbè, l'ho portato via da alien. Ma che cosa? Eh, non so poi che veniva. Mannaggia a me quanto so stronzo. No, 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 non pushare, non li toccare proprio a Minion. Lasciali neanche la settare. Neanche la settare. Neanche la settare. Oh, perché lì è pushy? Ma che stai lì, sei la settata? Oh, no. No, appena arriva l'attacco di Minion, che sa che la Minion gli dà l'attacco di Minion. Lo vi è sull'ultima volta che Carola è spettato. Oh. Eh, è cazzato, è pushyato. Eh, è pushyato. Pushyato. Per il giro, non si fila di me. Ma il fight non c'è flash? Oddio, bene. E' meno il myth. Io c'ho ancora League Knight volendo. Ha flashato il myth? Sì, non ti ricordo. Stai vittuando a me. Non c'è bene. Non c'è da me. Pengo myth, ho il flash. C'è una, c'è l'apsus. Grazie. Ma il fight non c'è il TP. Non so se si è guardato da qui. Mi arrendo. Ok, ti arriva Cassio, c'è. Pochissimo HP, ho il Kong. Ci sono anche io qua. Io sto arrivando da dietro. Cassio è qua. Io sto arrivando da dietro, aspetta, aspetta. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vabbè, è che la torre è robusta a me. Bravissimo. Perché gli piace. Bravo Cina, così mi piace. Mo' tipo, canca top, perché quello non c'è la flash. C'è la ultima, quindi può scappare, no? Ma perché tirare le co-invisibili? Tirare le co-invisibili. Stai venendo. Stai venendo un po' troppo. Ragazzi, se vengo giù si riesce a fare qualcosa, lascio stare. E, beh, giocando difettivamente così... Eh, sto giocando un po' aggressivo il Brown, quindi ci state, sì. Vabbè, però state sotto torre, non so dove è il genre. Fa un culo. Ciao. Trai. Pazzi, troppo un uomo. Troppo una cosa che hai sbagliato, sai che è? Che hai fatto la W appena ha ultato. Cioè, tu vuolvi far il preditta, ti hai fatto bene, però... Mi sa che non sapevi che andava lo stesso. Il mid prende il flash tra un minuto, più o meno. Ma di cosa tu stia parlando? Dico, tu hai fatto la W appena lui ha ultato. Comunque arrivo middor. È impossibile che mi ha predittato. Ti ha messo la W? Sì, ma io posso vedere qua. Oh, ci sono i bot. Inga, 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 inga. C'è anche W Kong, c'è anche W Kong. Ce sto, ce sto, Victor, Victor. Da indietro, da indietro. Ah, prendo il tunnel! Vabbè. Ok, bello. Ma come quando c'è neanche a bot e prendono sempre due quell'ore? Ve ne sono accorto alla fine che arrivo anche W Kong. Varo, pre-kill. Vengo top, ce lo facciamo. Se vuoi. Però mi sa che mi ha visto. C'è un flash W, c'è un flash. No, vabbè, lascia sta. No, vabbè, lascia. Vabbè, lascia il Drago. Vabbè, dobbiamo avere il controllo sul Drake qua. Eh, va. Che ce l'erano morto. Che è tutto l'op. Però botte la soffrite troppo voi due. What? What? Eh, ha ricicur... Eh, c'è... Porca puttola, come si dice? Ask. non ti vedo guarda dove posso flashare e ultare c'è braum, c'è anche braum, vai su braum non ci usate troppo se scappa usate il flash, vabbè arrivo a mid prendete la torre quella me la kill io se rimane possiamo prendere pure la seconda ah, aspetta aspetta prima ti devi fare oh no, andiamo in stazioni nego dovrebbe stare qua con noi in stazioni non potremmo prendere la seconda il bugon vi è ritornato, vè? non lo fai verso, non lo fai verso no, no, tra, tra vabbè viene lui mid però si faccio da ward vivente spero tu rimanga vivo io spero per te che non mettono una pink io spero per te che non mettono una pink wukong top ma se no io non vedo le Q di braum vieni, vieni top non c'è momokai facciamo il fight wukong è giorgio sta arrivando stavo qua senti occhio, occhioci se venire top v2 ce lo facciamo a questo vengo da dietro, vengo da dietro no, merci bro no, no ci vado? cosa ha presi? che è successo? non lo so la tizia è tipo buono lasciamo la fanno facciamo la torre si che è successo? ma che vedi che la wukong è fk? no, no, si muoveva ma si attaccato no, si in realtà è morta ma si muoveva si stava attaccando è vitra stavano attaccando a vicenda wukong la domanda all'inglese di mio? eh lo so ma ve ne rendete conto che io non ho mai nome quando ci può essere altre? no, forse è il palco di Futspire Noob Connection non l'ho mai letto però no, questi cazzi, per fargli capire aspetta, Noob Connection è tipo, vabbè, principiante, come se non si oh, ma perché non c'è il oh, che cazzo? qui c'è qualcuno, eh no, no ha diciato no, non ha diciato ha fatto la merda, Sivir, eh chiedendo se è un coglione, killala quando è così volevo fare il disrispetto e fai killare e invece ti ha ucciso non è una domanda eh, buona affermazione eh, solo che mi ho spesso male ma top io arriva in base così? certo eeeh eeeh quindici, quindici, quattro cinque quindici, quattro cinque ventisei si, quanti numeri stai tanto, basta eeeh no, no, è proprio invisibile si però vi sta bene io le vedo le cerco no, no, io vedo no, forse perché si è baggata la grafica quando l'ha fatto da cespugli eh, ma allora portalo no, no, attento ci sono anch'io è morto, è morto drago, raga, ci vedo il drago io non c'ho il tp però c'ho il tp no, non c'ho il tp la basa arriva dei tp tranquilli ho smilitato un round ma quanto c'è? no, c'è ho smilitato un round ma top che cosa sta pensa di fare pensa di poter fare facciamo med malfight no flash ma che ci fai giudato a fuoco ci c'è da, ci c'è da ci c'è da, ci c'è da, ci c'è da ci c'è da, ci c'è da ci c'è da ci c'è da capito Houston, abbiamo un problema è arrivato 8 però mi sa che oh, mortasci loro arrivo bot, arrivo bot ok, ce la faccio, faccio, faccio arrivo bot Cassio no, ignite no ulti malfight no ulti l'hanno visto non è che flash malfight, non c'ho lo abbiamo fatto i casi sto facendo 4 mohohohohohohohohohoh che fai mi scrivo era di cino grande, grande, grande cosa? Lucina, uccidi Lucina, ho detto che un coglione oggi credo e invece l'ha detto la scuola di cina sarà.. eh neanche io ho visto questa cuna cina no cina no caru caru vallate la mano era morto Wukong cina Wukong grazie cina e l'hai fatto pure scappare fuck cina guardo Wukong riprendi mana e stai mettendo vita cina ma perchè hai continuato su Braum quando caru t'ha chiamato pensavo di ucciderlo veramente l'ho chiamato io tu non devi pensare, devi essere sicuro al 100% quando fa le cose non te lo dico più cina non te lo dico più cosa cos'è che devo fare? devi prendi cazzo in culo perché non ti ha scelzato non ti ha scelzato ma rega se eri su c'ho un minuto il TP eeeh tanto non c'è drago per ora c'è lo so eeeh vai continua a pucia Victor però ti auguro da qua se dove serviva la la Erika Cassia e lo so c'è 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 G.C.C.S.: ありa Cassio no muoia dai se arriva Cassio no muoia neanche si rrego vabbè se no me la torre la possiamo prendere arrivo anch'io quest'qu için no contro quattro vabbè non c'hanno chi da loro Cina se attacchi la torre invece resta là fermo fa quel coso vabbè niente stiamo tutti qua con quest'elf tutti qua tutti qua no perchè ziti 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 eccolo la buca vabbè raga oh cazio eh cazio cazio non ha bloccato corda 11 hp quasi fanno tutti victor non c'ho niente non ha mana che cosa fa danno? si il coso blues lo vuoi fa danno ma serio? no oh cazzo io ti aiuterei pure oh cazzo io ti aiuterei pure no no che cazzo fa mumu? un cazzo peggia sinistra oh ma che... ti aiuterei un word perchè sono cazio qui eh se fai se la famo quella dammelo scudo dammelo scudo yeah ho solo mano per questo scudo qui mi chiede una puttana dove cazzo fai? no vabbè niente vabbè ha flashato stato un knight questo word per due uccisioni non lo so se no non ci muore questa corre... eh ti fa ti sei sicuro? ti sei sicuro di quello che dici? no c'è cina ma quel flash a schivagli la culo ne vogliamo parlare? non mi hai fatto il flash solo per andare addosso no 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 per schivagli la culo se no morivo no se no morivo vabbè sto scherzando va bene o basta va bene così oddio 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 calma 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 sto venendo o sto venendo eh vabbè stai cina però che schifo veramente eh vabbè smettete dirci quando vieni o non vieni senti c'è il drago tra poco c'è il drago io io lo pusho dopo e c'ho il tp finuta drago neko comunque tu devi stare più tempo con noi stai solo bot stai eeeh stava pushato eh lo so però tu devi stare più con noi oh ma c'è fammi avere mo perchè loro so stupidi però tu devi stare più con noi era anche civil bot no civil s'è la prima top gianna ha visto il george dopo che ha regalato il brutello mi sa che vince george madonna quanto scappo mi sta kite a merda se tu lo stila non rido guarda che kiting io sento di cc ks non so quanto è che mi sento la parola kill steal ma pure io da adesso è vero no se i boosti la senti spenso ma non hai visto meglio prima io non boost io non boost però non ho boost però non ho boost ma io appena l'ho fuori io ho utile un pusho dopo ma questi 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 dc chi sono ora? questi raggi ma raga vado metti indietro prendo l'odore e poi arrivo ah ok allora lasciatelo no va solo metti indietro muoio questo se flash out ci fa tutti eh anche se perde tipo metà vita così no ward è qua caro a te cazzo io sto a muoio no se ah raga riva 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 vai 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 siamo tutti attaccati buonissimo oh questa questa è morta la pegnetta la pegnetta che ha slugato oh 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 vai io ho ceso io ho ceso vuoi farlo cioè vuol dire drago pure baron pure baron pure baron vai andando al baron e non push a bot e andando al baron pure vai mi metti un push a bot ma cosa sto baron ah ggvp non c'è tempo ragazzo spero che il video vi sia piaciuto vi faccio vedere i punti che abbiamo preso eh è stato un bel video è stato un bel video è stato un bel video no tutto sommato sommando gli esponenti 73 punti ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto vi è piaciuto vi è piaciuto lasciate un bel like se vuoi commentare se vuoi condividete anfa ciao a tutti i ragazzi che hai lupo bella buona nessuno saluta oh bella ah si ciao scusate stavo scrivendo vai ciao ciao ciao